Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Capitan Tsubasa, riprendiamo la nostra storia con il terzo episodio Come sempre ragazzi vi ricordo di supportare la serie, il canale con like e condivisioni, mi raccomando non vi costa nulla ma è un grandissimo supporto quindi mi raccomando fatemi vedere che ci siete Siamo pronti per il prossimo incontro, andiamo a vedere comunque una classica riunione tattica che facciamo, siamo in nazionale nel campionato nazionale a Zumaiki di Osaka Ok, allora vediamo un pochino, difensiva non ha subito nemmeno un gol nel torneo regionale, attenzione, ok Ammazza campioni per la sua tendenza a prendere di mira gli avversari, in che senso? Ok, va bene, so anche che ha segnato il gol decisivo per la vittoria finale di Osaka quindi potremmo ritrovarcelo improvvisamente in attacco Ok, siamo tutti nervosi per questa prima partita delle nazionali ma ricordate che è il primo passo verso la nostra terza vittoria Ci proviamo signori, ci proviamo, prossimo incontro dai, avanziamo direttamente e poi vediamo un pochino Come detto mi regolerò in base anche al vostro feedback e al vostro interesse in questa serie Per vedere se fare poi anche la creazione del personaggio, comunque aggiunge qualcosina in più Noi siamo pronti signori Sì, sì, fate i furbi Sì Che chiede conferme Apparentemente sì Grande Olli Grande Eh sta Alla spiaggia sta Pierzone Vabbè noi pensiamo a noi Sì Eh col catenaccio Dai sportiveggianti più che mai Fomentatevi poco belli Eh guarda questi Dobbiamo Vabbè puntare comunque anche ai nostri attaccanti Certo che riempiono stadio Per essere un torneo un po' così Quanti spettatori ci vanno qui Manca il Maragana Ci siamo Ci siamo Dica Ah so Eh beh giustamente Bravi bravi Piano con le parole eh Di stare molto calmo Ma noi siamo pronti Eh tecniche di dribbling e tiro Vabbè facciamolo perché come detto Magari ci dice anche cose un po' Eh extra Per quanto poi come detto I video possono durare un bel po' Però insomma ci sta signori Ci sta Che fa non ti godi Il tuffo nel passato con oli e benji È onesto È onesto Allora Eh Durante il dribbling Per riempire la barra di tiro Ah ok Vai va Ah devo lasciare Ok E' pesante È pesante sto pallone Lascia fare Ok va bene Ci sta Onesto Per riempire la barra Puoi farlo subito Dove ho messo a segno un dribbling Quindi inizia a riempire la barra Già l'abbiamo fatto Schiva due avversari Ah due avversari Ok È uno Ok Con quale potenza e violenza Bravo bravo Vai Mo cerchiamolo di far pure in partita Per quanto poi magari non sarà Olli ad essere il centro di tutto Ma Allora facciamo una cosa Per quanto riguarda la durata della partita Sei minuto Ah non è possibile cambiarlo E livello ci Ah ma questo lo cambia lui poi Perché noi avevamo messo due cinque minuti Dalle impostazioni O sbaglio E neanche lo posso cambiare Se ripristino di default Che cambia È niente Non mi fa cambiare niente Vabbè forse è fatto apposta Può darsi eh Può darsi eh Non lo so Però noi avevamo messo diverso Comunque Dottore grande abilità Ma non può giocare a lungo Per via di una malattia cardiaca Eh sì Buon Julian Ross Quella partita Vi ricordate La partita sotto la pioggia Che era la semifinale Grande Non so quanti anni di puntate Abbiamo fatto per quella Per quella partita Ma è durata discretamente tanto Comunque pronti signori Subito Tsubasa Subito Tsubasa I numeri Vai iniziamo a togliere un po' di resistenza Al portiere Che vabbè mo la prende ma No Arco 2 Stavamo per far pure Subito goal Eh lento lento Eh vabbè che vuoi fare qua Non è facile Aspetta che Olli deve recuperare Un po' di stamina E là Attenzione Ci dribla Con stile Eh questo stile Dove siamo Meno male che abbiamo pure Il difensore sportiveggiante Noi però Aspetta aspetta Uh Eh oddio però Questi in difesa Sono forti eh Annaggia La pupazza Eh ma non mi puoi cambiare Giocatore così A caso E Attenzione Grande Olli Grande Olli Veraton Attenzione a Soda Aia Eh vabbè Soda Il suo È il pro della squadra Avversaria Madonna mia Ma che stai fuori Ma sembra Come Ma portiere Ma stiamo scherzando Ma da quale distanza Poi Bello il tiro Per carità Però portiere Insomma Fa vede che ci stai E non ci sta Una serie Al po' di due Perché se no Allora Supera un po' Tu Dalla Aspetta che è successo Ah Ma com'è sparito Ma scusi Ma non è vero Dai ma signori Attenzione Questo tira da Oh Siamo calmi Ah bello Vai Tsubasa Vai Tsubasa Maledizione E niente Madonna Sono cattivi Però questi Vorrei di niente Ma Eh Una parola Eh no Questo No Fermi Bello Allora Un attimo Fai salire La squadra Grande Tacco punta Se ne va Passaggio Filtrante Che non va Però Nonostante Ci abbiamo provato Non è andato Attenzione Ondera Onodera Eh niente Grande così Riparte Contropiede Così Nagano Attenzione Nagano Numeri I numeri I numeri Che Ah Spina Dorsale No perché Non hai fatto Il tiro Mega Power Sei un Imbecille Eh no Forse Dentro L'area Non lo Fanno Troppo Impossibile Attenzione Ganonava E niente Vai capitano Tsubasa Il nostro capitone Non va Non va Neanche Zawa Eh scusami Che è sempre Pasqua Bello Siamo I numeri Carica subito Dalla distanza Numeri Di nuovo Vai vai Grande così Uno a uno Palla al centro Signori Grande Teppei Ha bruciato L'uomo È forte È forte Molto Bombe Devo Provare Tirare Qualche Mina Con Occhio Con Olli Aia Occhio No 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 Mamma mia Grande Lui I giocatori Di tecniche di blocco Possono attivare Consumando metà Del proprio spirito E posizionandosi davanti Un giocatore Che sta Usando una tecnica Di tiro Se il blocco riesce La potenza del tiro Si riduce E se scende a zero La palla viene rubata Mamma mia Devastante Aia Devastante pure lui Però Occhio Mettiti davanti di nuovo Uh No Bella Sportier Sportier Ma che cos'è Vai Olli I numeri I numeri Eh ma non Non arriva Al punto Giusto Per Fare il tiro Megapower Non so perché Tiragli alla Navlocinata Dai Dai No Scusa Perché non mi mette Vabbè Lascia Lascia scorrere Giocata di potenza Eh sto cercando di cliccare Ma non me lo da Ah adesso si Ok Ah biondo Mamma mia che sta a combina Oliveraton Boom Sponna Iemani E se ne va In vantaggio Umiliati signori Umiliati Anche nel Moviolone Il Moviolone Non perdona Aio Guarda questi Maledetti Grande Oliveraton Vai Nagano Vai Nagano Con i numeri I numeri di Nagano Passaggio filtrante Non va Attenzione Nagano Non ho letto bene Non vorrei dire Cose errate Con i nomi Attenzione Ha finito la stagna Uh Ha finito anche di vivere Probabilmente Elevate Grande Tsubasa Tsushi Può provare a caricare il tiro Da vicino Eh vabbè Senza Ueh Allora Aspettiamo Lasciamo lì Capitano Tsubasa Il nostro capitano Tsubasa Ozora Che fa i numeri Non fa i numeri In realtà Ueh Tsubasa Tsubasa Il bomber Il bomber Il bomber Che se ne va Uh I numeri Del portiere Anche Bella lì Bella lì C'è tensione Nell'aria Finisce così Il primo tempo Signori In vantaggio Bene così Grande Nankatsu Tagasugi 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 Secondo tempo Siamo pronti C'è tensione Entrambe le parti Tsubasa Ma come Ma come No Oppure quest'altro Madonna Questa era un salamone Di quelli Da panico Eh Eh attenzione Perché quest'infortunio Molto pesante Vai vai Non è successo niente Tsubasa Non è successo niente Questa è un salammone Il 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 niente ci hanno beccato signori dobbiamo stare molto accorti secondo tempo sempre in queste partite c'è da tenere in considerazione grande così se sarà pure fatto male ma biondi arco 2 ero arrivato troppo vicino a quelli dovevo superare perché sennò niente da fare grande così numeri aia numero così vai vai oliver vai oliver carica il tiro eh non va mamma mia aia mamma mia veramente però grande izawa ci prova non va attenzione che questi vanno forte nakai sulla fascia il pendolino che è serginio questo kafu aspetta attenzione queste azioni evasive da panico rischio fortie mi raccomando bella lì così ci piaci che provi a fare il tuo mestiere sembra poco ma importante aia si perché poi insomma che si possa fare molto bella lì carica carica e niente ma se non mi fa il tiro cioè potente in realtà non ho capito perché non sta fa però che fai rissone beccate stava gnotta bella lì è uscita ma com'è uscita ma com'è uscita ah stava sopra ma pensiamo ma no è che però funziona bene no ci dobbiamo riprovare signori secondo me ci può ci può riuscire ce la possiamo fare ok vai nagano grande nagano 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 ma c'è basa calabu iniziazione taglie no ma che fai iniziazione sola no no tagassiusci tu no tu ti puoi far fregare sei l'unico difensore serio bella aia mi stanno a massacrare holly però no dove vai e niente mamma mia i rischi aia ma posso fare la giocata di potenza che ce l'abbiamo là da una vita aia boom no com'è ehi allora quando due giocatori si avvicinano a una palla libera usando r1 o quando un giocatore si avvicina ad un avversario con la barra di tiro massimo usando cerchio inizia un duello per vincere premi ripetutamente il pulsante sullo schermo per riempire l'indicatore la velocità di riempimento è influenzata da statistiche dei giocatori vince un duello che permette di riempire di molto l'indicatore zona v attiva immediatamente un tiro un passaggio lungo e potentissimo duelli si verifica non durante le giocate aerea allora aspetta vabbè qual è il tasto? si però un millesimo di secondo me lo devi dare per capire che cosa sta succedendo scusate attenzione attenzione i numeri attenzione se ne va no porco due ho sbagliato tantissimo non ho fatto caricare abbastanza e dai e niente imbattibile si vabbè stanno a sfondare tutte e dai e paio se ti apre potenza se ne va se ne va ma come ha potuto da lì da quella distanza tiè beccate st'altra bagnotta e se ne va 3 a 1 grande è così i numeri e buga le mani al portiere vorrei provare a tirare una botta proprio dalla distanza a distanza ma se vuoi e due ne devi fare però giovane aspetta e spera aspetta e spera dai che culo che ce l'hanno questi però chi è? da qua lo devi fa nooo eh no troppo lontano vabbè uno ci provano poi tiè eh ma aveva finita la stamina non potevamo fare altro signori purtroppo stacco punta Tsubasa o Zora i numeri e dai air dribblings vai così angolato angolato gli è scivola gli è scivola non gli è scivola oh mamma mia che sta combina mamma mia che sta combina mi ha bucato le mani uh i numeri anche di classe questi numeri eh senza fare troppi tironi da panico si può fare guardala che dribbling non è alla holly e benji però insomma ci sta anche un gol un po' più easy 4 a 1 devastante devastante e poi vediamo un attimo la difficoltà come si fa se si alza in automatico anche se eh ahia da che culo Grande No è Crisantemo però Sto capendo la sega qua Troppo veloce Do sta la balla Nostra Stata fatta anti furbi Quali splendidi Uè Madonna mia E finisce così signori Muti Muti Dai è così Avanti avanti Olè Attaccate della Anawa Ha perfezionato tecniche Gioco aereo in coppe Con suo fratello gemello Katsuo Beh gemelli d'Eric Pure una certa sportivegianza Ce l'hanno Molta Molta Sì 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 Grazie a tutti Vabbè dai alla fine Prendono tutti bene Prendono tutti 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 Prendono tutti